buongiorno a tutti i nostri social spettatori oggi abbiamo ospite il professor paolo colleselli pediatra lo abbiamo chiamato qui per parlare di un tema che è su tutti i giornali in questi giorni motta di livenza è qui vicino c'è il caso di cui abbiamo letto tutti con preoccupazione di questa maestra che si è portata avanti per un lunghissimo periodo una tubercolosi ha di fatto contagiato ha trasmesso il morbo a un numero considerevole di persone e adesso forse possiamo dire ricominciamo ad avere un po più paura di queste malattie di cui non sentivamo più parlare e che adesso però quando quando ti arrivano perfino in classe insomma si comincia a rifletterci un po di più cosa è successo professor colleselli ma in realtà la tubercolosi non è che sia sparita c'è sempre stata c'è stato un periodo tutti ricordano fino alla prima metà degli anni novecento che era una malattia diffusissima endemica temutissima e poi via via è andata riducendosi come presenza soprattutto per motivi di tipo igienico sanitario e di miglior nutrizione della popolazione questi stati i due fattori che hanno migliorato questa situazione per una malattia che non è mai sparita e anzi è molto presente in molte zone del mondo l'africa ad esempio il sud est asiatico e via discorrendo lì dove naturalmente le condizioni come diciamo prima igienico sanitarie e nutrizionali sono molto più ridotte rispetto a quelle che sono le nostre ora il problema è che questo tipo di infezione è una infezione estremamente subdola cioè questo germe che può rimanere silente diciamo così cioè non evidente per decine d'anni e poi a un certo punto riattivarsi e dare un infezione acuta devastante grave che a quel punto diventa anche possibile come contagio come trasmissione ad altri quello che è avvenuto è da quel che ho potuto vedere peraltro dalle notizie che noi abbiamo dalla stampa è stato questo abbiamo una persona questa maestra che aveva probabilmente avuto un contatto molti anni fa cosa che peraltro tutte le persone oltre 50 anni è capitato in gran parte quindi moltissime persone che hanno già una certa età hanno avuto questo contatto che però alla fine si è risolto in un contatto e basta senza una vera propria infezione grave e convivono in pratica con questi pochi germi che hanno addosso per tutta la vita in questo caso evidentemente c'è stato qualche fattore scatenante immunodepressione probabilmente una forma influenzale che può dare un immunodepressione ed ecco che la malattia è ripartita in maniera estremamente grave questa signora poveretta ha dichiarato che non ha voluto farsi controllare vedere perché temeva malattie molto più gravi e quindi ha atteso e in questa attesa ha avuto il tempo quindi di contagiare decine di alunni ma non solo ma anche di colleghi di tutte persone che erano vicino a lei sì perché i numeri riportati dalle cronache fanno impressione insomma nella cerchia dei più vicini dei più ossidi frequentatori di questa persona pare che appunto il contagio sia nell'ordine del 95 per cento voglio dire praticamente tutti insomma estremamente ma parliamo di un virus o di un batterio allora il la tubercolosi è dovuta a un batterio si chiama micobatterio della tubercolosi che fa parte di una categoria un po particolare di batteri appunto che hanno delle caratteristiche tutte loro non è l'unico tra l'altro ci sono altri micobatteri che possono dare forme infettive anche nell'uomo nel bambino ma quello che dà la forma sicuramente più importante devastante è quello della tubercolosi questo è un germe che entra per le vie respiratorie si ferma diciamo così a livello dei polmoni delle prime difese e nella gran parte dei casi rimane lì quello che noi abbiamo notizia sono tutte persone che hanno avuto questo contatto quindi sono risultate positive alla ricerca che attraverso dei sistemi di indagini che sono quelle il test cutaneo e indagini tipo ematochimico e queste persone non è detto che in futuro avranno problemi importanti anche perché una volta riconosciuta è possibile fare una cura che si chiama di profilassi cioè di che anticipa in qualche maniera uno sviluppo di una malattia grave e con questo il problema si chiude lì si chiude lì per modo di dire perché sono cure che richiedono qualche mese ecco quindi probabilmente adesso c'è da aspettarsi che queste persone che sono risultate positive queste molte persone risultate positive saranno sottoposte a questo tipo di sicuramente in questa situazione qui i protocolli prove prevedono che si faccia una cura di profilassi che come minimo però è di sei mesi caspita e viceversa se l'infezione è andata oltre questo primo contatto ed ha già aggredito degli organi come i polmoni e come altri perché ricordiamo la tubercolosi non è solo polmonare può andare interessare altri tantissimi altri organi dalle ossa i reni anche l'apparato genitale per dire cioè quindi ci sono tutta una serie di varianti di diffusione questa malattia il ricordo tra l'altro che nel bambino piccolo è una malattia estremamente aggressiva è uno dei problemi principali che può dare come gravità che può dare l'infezione è ad esempio la meningite tubercolare io ho avuto occasione di vederne qualche caso e vi dico vi posso dire che è veramente una malattia estremamente aggressiva devastante curabile fino ad un certo punto perché quando si interviene gli esiti sono già comunque in qualche maniera definiti perché l'altra domanda che volevo proprio fare lei ha avuto grande esperienza prima operativa in corsia voglio dire prima all'ospedale di padova poi molti anni primario qui a belluno di pediatria poi molti anni a vicenza dove i numeri sono molto maggiori era una mia curiosità l'ha mai incontrata la tubercolosi io ho avuto occasione anche di fare una presentazione a un convegno qualche anno fa di infettivologia dove ho presentato la casistica del mio reparto a vicenza che riguardava ben sette casi caspita e sette casi di cui tra l'altro uno era una meningite tubercolare che all'esordio dell'infezione è stata la prima forma che può succedere nei bambini piccoli e le altre erano tutte forme variabili a livello polmonare ma non solo con livelli anche di gravità anche questi variabile questi non erano contatti questi erano bambini con malattia in atto quindi ricoverati per questo ricordiamoci peraltro che nel bambino per fortuna la malattia non è contagiosa cioè il bambino ha l'infezione ma non è contagioso per altri quindi questo è un problema invece che riguarda quello della contagiosità più l'adulto che ha una malattia cronica con delle un'infezione aeropolmonare che si chiama aperta e quindi emette con catarro lo sputo la parola eccetera colpi di tosse durante tutta la giornata questo catarro con i germi che poi vanno trasmessi ad altri semplicemente col meccanismo della tosse e di queste goccioline di catarro che noi emettiamo tossendo lei che è il nostro ospite fisso da anni perché insomma stiamo sfruttando l'esperienza del professor Goleselli da anni abbiamo fatto anche due libri tra l'altro insomma proprio dedicati ai consigli che il pediatra può dare alle famiglie ecco ci ha detto tante volte e lo ripetiamo che noi non ci rendiamo conto di quale nuvola di bacilli emettiamo quando c'è la tosse quando c'è il raffreddore e così ed è anche normale il nostro corpo è abituato sa mediamente difendersi da quello che ci entra nel naso non sempre però per cui insomma ogni tanto c'è ma la via di contagiosità diciamo più comune ma non solo per tbc è una forma cominciamo abbastanza rara però ci sono delle banali raffreddore per esempio è trasmesso in questa maniera anche a metri di distanza anche altre malattie infettive vedi il morbillo ha una contagiosità talmente alta la varicella si è calcolato che arriva il contagio arriva a nove metri cioè hanno fatto anche i conti nove metri dall'emittente nove metri dall'emittente per tornare alla casistica di cui parlavo in realtà giusto per dire non è che la vicenza fosse una situazione dal punto di vista epidemiologico particolare però ha una notevole presenza di immigrati soprattutto dalle dagli stati africani e tutti questi casi venivano da dall'africa quindi tutti e quindi il problema è legato quindi alla fatto che comunque la malattia c'è soprattutto in certe zone assolutamente endemica presente questa circolazione di persone che comunque noi abbiamo può comportare un certo rischio in più però l'altro aspetto è che tutti i medici tutti gli operatori sanitari devono tenere conto che esiste questa che esiste questa possibilità quando una persona come nel caso di questa signora maestra calava di pesa aveva la febbre tossiva continuamente aveva cataro eccetera il medico deve essere preparato a fare una valutazione e pensare a tutto compresa anche questa possibilità che quindi c'è magari l'avevamo un po accantonata ma invece c'è diciamo dal punto di vista soggettivo chi può avere la malattia sono sintomi facili da riconoscere è subdolo il fatto uno può tenersi per anni e anni e anni il germe in corpo ma poi può succedere che venga fuori i sintomi sono importanti si allora come dicevo se uno ha un contatto semplicemente diventa positivo la cuti e reazione ma non ha l'infezione in atto il contatto può voler dire esami negativi da questo punto di vista quindi una radiofile torace assolutamente pulita però come si diceva nel momento in cui ci può essere un fatto in cui c'è un immunodepressione quindi può attivare questa infezione che ha la suo punto di partenza di solito sempre comunque a livello polmonare broncopolmonare quindi parliamo di una gran tosse quindi quei sintomi che noi attribuiamo comunemente a una bronchite a una forma cronica di bronchite la tosse il cataro ma a questi dobbiamo aggiungere anche delle caratteristiche meno frequenti naturalmente in chi ha che sono bronchite da fumo per intenderci per il calo di peso scarso appetito stanchezza ecco tutti questi sono sintomi che in più ci dicono che forse il problema è un pochettino più serio rispetto a quello che noi pensavamo in questi giorni proprio in corrispondenza di questo fatto di queste notizie anche sui media con un'attenzione che purtroppo negli anni scorsi non abbiamo visto si è tornato a parlare di i vaccini perché di fronte a queste malattie che fanno paura uno dice ma posso difendermi in qualche modo allora qui potremmo dovremmo dovremmo dedicare un altro di questi nostri incontri per ribadire l'importanza dei vaccini perché merita sempre comunque un'attenzione a sé no nel caso della tubercolosi esistono dei vaccini vale la pena c'è un vaccino e c'è da moltissimi anni però purtroppo non è un vaccino che ci garantisce la protezione assoluta nel senso che può dare una essere come profilassi quindi una protezione però non garantisce assolutamente per una possibile infezione perché perché c'è un problema adesso che vi è una maggiore esistenza da parte di questo bacillo che tra l'altro ha delle varianti e la maggiore esistenza significa quindi anche una maggior minor effetto diciamo di quelle cure standard che noi possiamo mettere in atto il vaccino che si chiama BCG presente ripeto è possibile da tanti anni è stato veniva usato in maniera massiva in tutti i nati ad esempio nelle zone alpine Austria Germania anche Alto Adige nostro perché erano zone in cui c'era una particolare presenza endemica di casi di tubercolosi soprattutto negli anziani però è stata abbandonata questa pratica diffusa che veniva fatta a tutti i nati perché non aveva dato dei risultati importanti quello che sicuramente ha cambiato la situazione per quanto riguarda ripeto la tbc è stato le condizioni di vita su questo non c'è dubbio nutrizione e condizioni igieniche quindi ambienti più salubri come dicevo se uno sta in una stanza a lungo con un nonnetto che continua a tossire che magari ha una forma cronica di tbc polmonare ecco che questo infetta chiaramente chiunque sta lì durante la giornata vedi i nostri ambienti in montagna chiusi per il discorso del freddo eccetera tutte queste condizioni di migliore igiene hanno migliorato questa situazione però non l'hanno azzerata completamente ecco questo è un dato di fatto e quindi qualche caso che ogni tanto salta fuori c'è in questo caso è una persona chiamiamola indigena quindi italiana però esiste anche ripeto la possibilità che qualche caso possa avvenire da queste persone che vengono dall'estero e che comunque hanno una maggior probabilità di avere questo tipo di infezioni quindi stiamo parlando di una cosa difficile da curare forse non facilissima da diagnosticare ma almeno ci possiamo dire che gli ospedali la struttura sanitaria è in grado comunque di affrontare queste situazioni andranno prese per tempo ma gli strumenti noi li abbiamo in questo momento i farmaci per l'infezione tubercolare che sono più di uno e che si usano il solito in cocktail nelle fasi acute sono sostanzialmente efficaci sono cure molto lunghe a dire la verità però comunque oggi si riesce a controllare la situazione almeno lasciamo il messaggio positivo non è una sentenza assoluta quella come era un tempo 300 anni fa uno che aveva TBC polmonare diffusa ci vanno a dire che avesse tante possibilità di cura oggi queste ci sono e quindi le cose sono molto cambiate però è un problema delicato che va a mio avviso sempre tenuto presente nel momento in cui ci sta di fronte a situazioni di tipo effettivo in cui non si capisce bene quale può essere la causa va bene grazie professor Colleselli grazie a tutti voi è stato un piacere ecco grazie anche a tutti voi che ci avete seguito e direi anche che se ci sono domande, dubbi fateceli sapere perché col professor Colleselli con altri esperti benvolentieri proveremo anche a cercare di rispondere a chi avesse delle questioni da porre grazie a tutti bene benissimo